I social sono ciclici oppure può esserci una nuova direzione in avanti? Buongiorno e bentornati al caffettino, sono Mario Moroni, benvenuti nel mio podcast, come se fossimo davanti alla macchinetta del caffè. La domanda che vi faccio oggi e che mi faccio oggi è, ma i social sono tutti ciclici? Ovvero, vivono lo stesso percorso, la stessa ciclicità e poi tendono a copiare se stessi e gli altri? Oppure con un nuovo social veramente dirompente si può veramente andare in avanti? L'approccio di solito della persona comune con un nuovo social è di entusiasmo, soprattutto se c'è lui e non ci sono i suoi amici. Perché può finalmente dire, sei sul nuovo social? Hai visto quel nuovo social? Ah non ci sei? Te lo consiglio io. Ecco, chiaro, i fantaguro vivono di questa situazione. Bene, al di là degli scherzi poi chiaramente noi tutti siamo portati a pensare che nuovi social con nuovi strumenti, prendete Clubhouse attualmente con l'audio o prima magari altri social come TikTok o ancora prima come Instagram, LinkedIn, Facebook, eccetera, eccetera, potessero portare una rivoluzione. In alcuni casi lo è, ma non è per quel motivo, non è perché è più democratico, ma è per principalmente il modello di business e la tipologia di persone che incontriamo. Il modello di business mi riferisco a quello dei social, ovvero se c'è la pubblicità, se è una pubblicità che interrompe, oppure se c'è, non so come su LinkedIn, un abbonamento da pagare. Insomma, il modello di business del social, il contesto e le persone che incontriamo invece derivano non tanto da persone nuove che non ci sono da altre parti, ma sono le stesse persone che però hanno un vestito diverso, hanno un tone of voice differente, sono lì per uno scopo differente. Chiaramente se vado su TikTok vado per intrattenermi, se vado su LinkedIn vado per informarmi e eventualmente fare qualche conoscenza lavorativa. Ma le persone sono le stesse, sono identiche, ci sono da tutte le parti ed è per questo che purtroppo, e qui è la prima risposta a questa grande domanda, neanche Clubhouse sarà una novità per quanto riguarda i social media. Siamo lì, c'è grande entusiasmo e poi in qualche maniera si stabilizza, scappano quelli che non hanno tempo da perdere o che hanno capito che non è quello il modo giusto per passare il proprio tempo e non lo riescono. Quindi a monetizzare e rimangono quelli che hanno più tempo oppure quelli che sono riusciti a capire quello strumento. Come fare scegliere per noi imprenditori e per noi professionisti il social giusto? Non dall'età, non dalla notorietà, ma dalla stabilizzazione. Ovvero quando un social è stabile, si è stabilizzato. Prendete Facebook o prendete anche LinkedIn. Bene, c'è quel nucleo di persone, c'è quello zoccolo duro di persone che è lì perché ha capito e perché gli piace stare lì. Noi dobbiamo sceglierlo in base a questo, in base a dove stanno i nostri prospetti, i nostri potenziali clienti e stare in quel social lì. E se siamo bravi magari a stare su più social contemporaneamente, però senza stare nell'illusione che uno può essere dirompente, può distruggere tutto e in qualche maniera essere rivoluzionario. Nel mondo dei social media dall'inizio degli anni 2000 in avanti, nulla purtroppo, fino ad ora, è stato rivoluzionario. E dalle rivoluzioni digitali alle cose normali, questo è Il Caffettino, io sono Mario Moroni, ci sentiamo tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 7.30. Se avete anche, come dire, suggerimenti, tematiche da suggerire, venite sul canale Telegram Mario Moroni Canale, scrivetemelo anche lì. Ci sentiamo domani. Grazie. 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 Grazie.